Rinviato incontro, occorre aspettare per conoscere il piano industriale della Gindal Group, lo annuncia il Mise. Il tavolo treofano al Ministero dello Sviluppo Economico, previsto per domani a Roma, è slittato. La stessa proprietà indiana aveva manifestato nella tempistica la possibilità di produrre il piano non prima del 29 gennaio, così nonostante l'alluncio del vice capo di gabinetto Giorgio Sorial, domani, giovedì 24 gennaio, non si terrà alcun confronto che possa rendere nota la volontà del gruppo indiano su ciò che accadrà per il sito produttivo di Battipaglia. Adesso si spera, in tempi celeri, della riconvocazione del tavolo dopo le fumate nere sempre al Ministero.